Buongiorno, ben ritrovati, questa è la rassegna stampa di Fano TV, occhio ai giornali, guardiamo prima però il santo del giorno e le previsioni del tempo, prima di sfogliare i giornali venerdì 26 giugno San Virgilio Vescovo, il sole è sorto alle 5 e 27 e tramonterà alle 20 e 55 e guardiamo le previsioni del tempo, vedete oggi la temperatura è salita di un grado alla medesima ora di ieri, 15 gradi e poco più e anche il cielo si presenta coppia carbone possiamo dire con la foto di ieri ma non è la foto di ieri, è come si presenta il cielo oggi, ecco le previsioni per i prossimi giorni oltre a quella di oggi, venerdì il cielo è sereno, poco nuvoloso per cumuli di bel tempo nella prima parte della giornata, le precipitazioni sono assenti, vedete sole pieno sulla nostra costa e anche domani sabato stesso schema, sereno poco nuvoloso per deboli attività, cumuli formi sui rilievi, nessuna precipitazione, le temperature anche sono in leggero aumento e anche domenica, sereno poco nuvoloso, senza precipitazioni e ancora le temperature in salita, quale sarà la tendenza per i giorni successivi, condizioni di tempo stabile per probabile situazione di blocco anticiclonico, è previsto un anticiclone di origine africana che forse farà anche aumentare le temperature, staremo a vedere, partiamo con i giornali, andiamo con il Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, Amianto in via Becci, subito l'ordinanza firmata dal sindaco Ricci al via La Bonifica dopo il sopraluogo di Forestale e Arpam ed è stato mandato un ultimatum ai proprietari dell'area, la surdenuncia, lo stato del sito già di per sé degradato, si è ulteriormente deteriorato, andiamo a vedere Fano per il Corriere Adriatico che focalizza l'attenzione sulla stagione estiva e sugli avvenimenti, il Lido si veste di rosa, musica e cordialità, gli operatori hanno già definito gli eventi di luglio, il Clou sarà la notte del 3 e si spera anche nel Comune che dia una mano a questo evento, è partito anche l'estate della BCC Arena, festival, musica, concorsi teatrali, comicità, insomma è veramente due mesi, luglio e agosto intensissimi anche alla BCC Arena, andiamo un po' di corso perché ci sono tante notizie, ve le voglio far vedere tutte quest'oggi, Fano, rimaniamo sempre nelle pagine del Corriere Adriatico, Aset Holding conferma la solidità e la liquidità, entro giugno il saldo di 2,9 milioni al Comune, presto l'Advisor, niente crisi di cassa, questa è la Aset, ancora nelle pagine del Corriere Adriatico, però ci spostiamo a Marotta, per il caso Outlet la Lupus invia una diffida a Tagliolini e consiglieri, la revisione del PTC è una variante a tutti gli effetti, quindi bloccate il blitz della Giunta, siamo a Marotta per il caso dell'Outlet che dovrebbe essere fatto in quella zona. Spostiamoci anche a Senigallia, vediamo che anche a Senigallia esempi virtuosi di cittadini che trovano un portafoglio e lo restituiscono e dentro poi si scopre che c'erano i soldi per una visita specialistica a un medico, un bel gesto, non c'è stato il tempo però di dare un cadeau al virtuoso cittadino per questioni di tempo, però insomma un bel gesto. Tempi duri per i vigili urbani di Senigallia perché c'è uno stop alle assunzioni per effetto della riforma delle province, quindi turni a rischio, un'estate bollente per i vigili, intanto sul lungomare debutta la sosta a pagamento, sappiamo che Senigallia sarà oggetto di una serie di avvenimenti che focalizzano l'attenzione di tante persone sulla città della Rotonda e quindi insomma la viabilità sarà un po' rivista. Andiamo con il messaggero, l'altra testata che vi facciamo sempre vedere, partiamo da Pesaro, povertà, è un focus sulle famiglie, una povertà che attanaglia 20.000 famiglie, un'indagine demoscopica dal 2009 a oggi, quindi da quando è partita un po' la crisi che ancora non fa vedere la sua fine, ad oggi la pressione tributaria è salita a 717 euro, naturalmente su base annua, si è ridotto in provincia il potere d'acquisto ed è aumentato il disagio economico. La fotonotizia che naturalmente l'altro rovescio della medaglia è il mercato immobiliare che è nuovamente fermo e ci sono 6.000 case in vendita, strade insanguinate, si schianta in moto contro un autocaro, è gravissimo, un padre di famiglia è a Villa Ceccolini ricoverato in rianimazione al San Salvatore. E poi la politica con le spese pazze in regione va avanti questo procedimento che è un fil rouge anche con la giunta Ceriscioli, quindi da Spacca a Ceriscioli, Moreno Pironi e Angelo Sciapichetti che sono stati nominati assessori da indagati e le richieste dei PM già prima della pausa estiva, si va a processo o archiviazione, ma se sono stati eletti evidentemente il governatore è convinto della loro estraneità. Altri 5 consiglieri regionali appena eletti sono in attesa. La questione dei migranti, Ceriscioli annuncia la soluzione è vicina, i migranti che arrivano nella nostra provincia. Continuiamo nelle pagine del messaggero, andiamo a Pesaro, scusate perché la spiaggia dei cani, abbiamo visto ieri c'era stato un articolo che diceva che c'era una raccolta di firme per impedire questa spiaggia dei cani e quindi il sindaco Ricci replica prontamente oggi agli operatori di Viale Trieste che si sono dimostrati contrari, vogliamo dare un servizio e andremo fino in fondo. Quindi spiaggia dei cani, non c'è alternativa, l'iter inizierà a luglio, l'amministrazione incontrerà bagnine e associazioni prima della discussione in consiglio. Quindi buone notizie anche a Pesaro per gli amici dei cani. L'università di Pesaro, Pesaro Studi, in quest'inverno se ne è parlato parecchio per la questione della sede che ha le ore contate, il comune strappa uno sconto sull'affitto, del noi ci dice che attendiamo un formale riscontro dalle poste che sono proprietarie della sede, ma c'è l'intenzione di venirci incontro, però purtroppo il destino è segnato perché l'università pesarese chiuderà, la chiusura è rimandata soltanto al 2017, però la chiusura sarà. Appunto questa è la notizia delle 6.000 case in vendita, è di nuovo fermo il mercato immobiliare, il notaio Licini, la situazione generale non è ancora rosa nei primi sei mesi dell'anno, i nostri atti sono calati del 3% e loro sono sicuramente un termometro della situazione. Andiamo a Fano con la pagina del messaggero, in testa c'è l'assessore Mascherin, anche qui caso amianto, parte il monitoraggio per ottenere i fondi della bonifica, ieri mattina è stato convocato un vertice in municipio con i settori interessati, il problema, dice Mascherin, va aggredito subito in tempi rapidi, entro oggi dovrà essere preparata la documentazione per il Ministero. La pista ciclabile illuminata, passeggiata notturna per inaugurare questa illuminazione, il ritrovo è domani alle 20.30 vicino al ponte del Lido e la partenza è per le ore 21 per percorrere il tratto illuminato dai 165 lampioni a LED lungo i 4 chilometri e poi potrebbe essere revocato il divieto di bagnazione all'Arzilla già oggi e quindi queste sono buone notizie per i bagnanti di quella zona. Ultima testata, guardiamo il resto del Carlino, ve l'avevamo fatto vedere ieri, siamo a Pesaro, un ragazzo ritrovato in zona Palla di Pomodoro che non ricorda nulla, lo smemorato resta senza identità, sono state avviate le indagini per capire dove alloggiasse, di che nazionalità fosse, quindi negli alberghi, nei campeggi, però non c'è stato esito positivo a queste operazioni, le ricerche sono a tappeto, mobilitati anche degli interpreti e battuti anche i campeggi. E olandese? No, guardate purtroppo lo sguardo perso un po' nel nulla, uno sguardo smarrito che insomma connota un po' lo stato confusionale di questo ragazzo. C'è un caso che riguarda due medici, due psichiatri di Pesaro, c'è un'ipotesi di reatto per omicidio colposo perché un paziente si è dimesso e poi si è suicidato e quindi è un caso avvenuto nel 2013. rimaniamo nelle pagine di Pesaro per il resto del Carlino. Addio a Luca Ugolini, eri un vero amico, si è stato l'ultimo saluto nella chiesa dei Cappuccini che è molto grande ma era gremita veramente in ogni angolo e anche gli amici del figlio, i compagni della squadra di Matteo vestiti con i colori della società per salutare il padre del loro amico. Strade di Sangue, dicevamo in apertura di trasmissione, si schianta in scooter e gravissimo un padre di famiglia, Massimiliano Benucci di 43 anni che si è scontrato con un furgone a bordo del suo scooter, ha perso il controllo e ha riportato delle ferite molto gravi ed è in rianimazione all'ospedale di Pesaro. Andiamo a Fano con le pagine del quotidiano di Bologna, anche qui strade pericolose, siamo al poderino, una situazione delicata, parlano i residenti, c'era un semaforo, poi è stato tolto e gli incidenti sono ripresi, quindi un semaforo ti salva la vita. Anche pochi giorni fa un ragazzo di 17 anni è stato investito e ha rischiato davvero molto, ora è in ospedale. Anche qui nelle pagine del resto del carlino, Aset, si parla di Aset, Susanna Testa e Francesco Spaccazzocchi fanno chiarezza, niente problemi di solvibilità per la holding e dicono appunto non utilizziamo scoperti di conto corrente in giacenza come media c'è 1.400.000 euro. Santorelli dice che i 2.200.000 euro di utile di Aset, Aset Holding invece di finire nel bilancio comunale 2005 potevano essere utilizzati per ridurre le bollette. L'ultima pagina che vi facciamo vedere di Fano, è un caso di cronaca, i carabinieri fermano a bellocchi un'auto, dentro c'è un padre di famiglia che alle domande dei carabinieri desta un po' i loro sospetti, si avvia la perquisizione e sotto la leva del cambio c'è un panetto di ben 300 grammi di cocaina. E poi l'estate amara dello scimitar che si avvia alla deriva perché è stato spostato per una questione di manutenzione e rischia di restare chiuso per tutta l'estate, il ristorante galleggiante appunto è stato spostato ma poi ci sono stati dei problemi. Bene, questa era l'ultima pagina che facevamo vedere per oggi, è tutto per questa rassegna stampa che tornerà naturalmente domani mattina alle 7.30 e l'appuntamento per l'informazione è questa sera con Occhiala Notizia alle 20.30. Nel frattempo, nel resto della giornata se vorrete rimanere informati e avere le news sempre pronte davanti a voi, il nostro sito internet occhialanotizia.it o la pagina Facebook se navigate con questo social. Buona mattinata a tutti voi e alle prossime.